Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio Pallotti, sono il segno traduttore all'Istituto della Mazzonkapa e svolgo anche la mansione di traduttore italiano ufficiale di Sossantità, il Dalai Lama. Visto la grande risposta positiva che abbiamo ricevuto dalla venuta di Chiavge Lingrin Poce, la reincarnazione del tutore di Sossantità e Dalai Lama, che è venuto e ha dato la trasmissione orale e un po' di spiegazione di quello che è la prima parte dell'Amrincemmo o il grande trattato del sentiero graduale per l'illuminazione, abbiamo pensato di organizzare una serie di incontri che guiderò sullo studio e la pratica del sentiero graduale. Questi incontri si svolgeranno in un ambito principalmente di ritiro in cui ci saranno spiegazioni, andremo a guardare insieme, approfondire insieme le varie spiegazioni di Lama Zonkapa, ma non solo, tratteremo molto il soggetto di come meditare il sentiero graduale per l'illuminazione, i vari punti come si meditano, che cos'è la meditazione analitica, come si utilizza insieme alla meditazione concentrativa, quali sono i segni del progresso mentale rispetto a quelli che sono gli stadi specifici del sentiero graduale verso l'illuminazione, quali sono le modalità e gli strumenti che portano a velocizzare queste realizzazioni, qual è il segno dell'ottenimento e così via. Tratteremo una grande varietà di argomenti con tanta opportunità anche di dibattito, di meditazione guidata, ma non solo, guarderemo e ascolteremo insieme anche degli straci e degli insegnamenti di Sossantità e della Ilama, dei 18 grandi Lamarim che ha dato in India un po' di anni fa e io ho avuto la fortuna di poterli tradurre tutti per la comunità italiana. Ora, a mesi alternati a questi incontri dell'AMRIM, sempre sotto l'organizzazione dell'istituto alla Mazzoncapa, guido anche un'altra serie di incontri che si chiama l'educazione del pensiero e l'igiene emotiva. A differenza dell'AMRIM che si basa principalmente su quelle che sono le spiegazioni dei maestri tibetani, per cui di Lama Tsongkapa, nell'educazione del pensiero e l'igiene emotiva approccieremo gli stessi argomenti ma dal punto di vista delle spiegazioni dei grandi maestri dell'India come Nagarjuna e Chandrakirti. Per cui questi due eventi si aiutano a vicenda e una singola persona può seguire entrambe ed avere grande beneficio. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato e spero di vedervi tutti voi in grande numero e arrivederci. Grazie a tutti.